Musica 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 Ok, andiamo. Va bene, ci siamo. Sei pronto? Andiamo. Ma le tre statue davanti. Dobbiamo colpire le statue, quindi. D'accordo. Immagino che però dobbiamo capire qual è questo. Si muovono tutte e tre? Sì. Dicevo, dobbiamo capire qual è questo collegamento. Vabbè, proviamo a colpirle. Vediamo cosa succede. Ok, due sono deboli e una resiste. Vabbè, continuiamo allora. Due le distruggiamo subito. No? Scusami, non era... Ah no, ho fatto il critico su una. Proviamo allora a sparargli. No, resiste. Proviamo anche sull'altra, vediamo. Ok, l'altra è debole. Quindi una sarà debole ai pugni, per forza. Peccato non averne più. Ok, però è già quasi morta, dai. No, non è vero. Quindi deve essere debole al taglio, per forza. Ho sbagliato, i pugni erano sulla prima. Ok. Quindi respawneranno. Quale occasione migliore, no? Allora, spero che ci dia la carica. Ah, che sfiga. Preferivo la carica. Preferivo veramente la carica. Ma non fa niente. Teorgia. Chaos Scarlatto. Ok. Ok. Bel colpo. Complimenti a noi. Non pensavo che l'avrei ucciso con un colpo di sicuro, eh. Però... Evocazione. Ok. Però, è una mia impressione, lui non fa nulla finché ci sono le statue. Ok, però sono cambiate. Ok. Quindi, come immaginavo, ogni statua sarà sempre debole a una cosa. Devi capire quale, però. Devi capire quale è debole a che cosa. Quindi, andiamo con Oni. Perfetto. E via. Assaltiamoli. Beh, facile facile in realtà, eh. Pensavo fosse molto peggio la situazione. Uh, che sfiga. Però, vabbè, sono rimaste letteralmente con un ciccinino di vita. E via. Vieni giù, bello. Andiamo di teorgia. Modalità furia. Forse è stato un attimo avventato usarla adesso. Però mi sembrava la scelta migliore. Trascendenza Macabre. Ottiene più azioni. Ok. Uh, mano di Dio. Uh, che culo. Di nuovo. Va bene, non ci fa nulla. Madonna mia. Se questo è il danno che ci fa con una mano di Dio. Più aggressivi di cosa, sorella? Cioè, intendiamoci un attimo che questo ci ha fatto una mano di Dio e ci ha fatto 29. Con un attacco normale noi abbiamo fatto mille, voglio dire. Curiamo un po' tutti. Perfetto, mi sa che sarà il caso di farlo anche dopo. Perfetto, bravissima Aegis. E tu? Teniamo la teorgia per dopo. Che così quando saremo al massimo della nostra teorgia, facciamo anche concentrazione. Pam! Altro attacco scarlato e via. Getsu, hey! Ottimo. Megidola. Ok, no, poteva andare peggio. Poteva essere un Megidolan. Eh, sì? Te lo faccio vedere io, un colpo divino. Questo! È un Megidolan! Che comunque 400 non è male. E abbiamo già aumentato la nostra teorgia. Solo una ne è evocata? È più grande delle altre, è una mia impressione. Eh, infatti. Perfetto. È un altro tipo di attacchi. È un altro tipo di attacchi. È un altro tipo di attacchi. Perfetto. Puoi avvolgere questo attacchio? Perfetto. Perfetto. Ma non agli attacchi divini. Se questo è quello che ci vuole. Una teorgia ce la butto volentieri in questo caso. Facile, facile. Bravo Ken. Spero sia il turno di Koromaru adesso. Perfetto. Bravo Cagnolone. Maledizione. E però ho paura al prossimo attacco perché mi sa che siamo vicini... Eh, è un po' a rischio, eh? È un po' a rischio. Se ci fa un attacco potente... Ok... Eh... Vado un po' sul rischio qua, eh. Wow, 41. Complimenti. Difesa diminuita. Lui si potenzia. Fantastico. Concentrazione. Oh, ma niente più fai? Eh... Che sfiga. Qua purtroppo è andata un po' a sfiga, eh. Però... Ovviamente non era debole a nulla e lo immaginavo. Se tutto va come deve... Questo sarà il nostro ultimo colpo su di lui. Vediamo... Ok. Ok. Ha resistito tra virgolette più del dovuto perché si era potenziato, però è stato un bel colpo. Segno di conclusione. Tarocco l'appeso. È tutto qui. È finita. È un po' deludente. Forse c'è il momento un attimo di sconforto generale. Però mi aspettavo tipo un momento in cui tutti... Yattaaa! Ce l'abbiamo fatta! Però poi si rendono conto. Eh, però non è cambiato nulla. Andiamo a mangiare. Allora... Ho fame, ho combattuto! Ho fame! Ma certo! Beh, tanto Fuga non deve preparare nulla! Ecco ti pareva! No, aspetta! Qual era l'evento? Eh... Dopo... Dopo la banca in Persona 5 loro vanno a mangiare il sushi. Quando entra Makoto in squadra. L'arriccio di mare è buono. Eh... Ehm... Ma anche lo toro è buonissimo! E... Ehm... 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 L'anguilla è fantastica sul sushi. L'anguilla è fantastica sul sushi. Ehm... Che tra l'altro io... Per giudicare un buon sushi... Di solito... Adesso non lo prendo più da tanto... Giudicavo dalla zuppa di miso. Se la zuppa di miso era buona... Allora il sushi... O meglio... Il ristorante non era male. Ehm... 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 Che bello avere degli amici ricchi! Ehm... Ma dai! Ma dai! Ehm... Esatto! Dategli un po' di merito a quest'uomo! Ehm... Ehm... M-Ehm... Ma dai! Ehm... Dategli un po' di merito a quest'uomo! Ehm... Eeeh, io dico di no Io dico di no No, è ancora presto, secondo me Ah, io ho deciso di fare un'idea di noi Ho deciso di fare un'idea A volte, se non ci sia un'idea di ricerca Lo dico per tanti motivi Ci sono delle persone che non si sono risvegliate ancora al secondo Abbiamo ancora la squadra che non è al massimo Faros uguale C'è un sacco di roba prima di... È impossibile, dai, è palese La battaglia è terminata, l'ora buia e non c'è più Eeeh, come no? Tu di mattina? Eh, esatto Che ci fai qua? Addirittura, per entrambi? Dai, dimmelo Dimmelo che lo voglio sapere Ok, ma qual era il tuo scopo? Beh, nulla è per sempre, è vero però Però, noi eravamo all'otto o al nove Faros? Faros mi guarda commosso Precipisco un forte legame con Faros No, eravamo al nove, ok Per un attimo pensavossimo all'otto ancora Sai che penso che il suo scopo fosse La nostra accettazione della morte Il fatto di essere consapevoli che arriverà il momento e dobbiamo essere preparati La forma più potente dentro di te Se è tutto come penso dovrebbe essere Thanatos In teoria Visto che è la persona che si è evoluta da Orfeo la prima volta In teoria Se ho ragione dovrebbe essere Thanatos E infatti Il portatore di morte Addio Buongiorno Phoenix Spero che il tuo stomaco sia pronto a festeggiare Perché ci sfonderemo di sushi Solo sushi? Hai ragione Stiamo parlando di Kirijo Senpai Magari mangeremo granchio o pesce e palla Cavolo non vedo l'ora Torno subito da scuola Oggi si salta tutto Andiamo direttamente a casa Stanotte al dormitorio ci sarà una festa Dovrei tornare al dormitorio Oh Cioè letteralmente non posso fare nulla Che palle D'accordo Torniamo al dormitorio Andiamo a festeggiare oggi Vedo dei pezzi buonissimi lì effettivamente Da È il suo posto preferito a quanto pare Eccolo qua Ah no Complimenti ragazzi Ah già lui non c'era l'altra volta Stai zitto Sì ma non è finita Ma leggermente non è ancora finita Sì ma non c'era Grazie Grazie Sì ma non c'è Sì ma non è Ce ne sono tanti di problemi Tra cui anche essere arrivati solo dove siamo arrivati nel tartaro L'ultima volta e aver visto delle scale che si fermano ancora lì Io sarei ancora riluttante a pensare che sia finita Aspettava solo quello lui Oh mi aspettavo una cutscene io Eh ma manca Aegis Ma le cose non andavano Sì nessun problema Per questa scena ci stava benissimo almeno una cutscene Coromaro con le zampette No No tu no Eccolo No ti prego fai sorridere il cane Ti prego Nooo Ma che f*** del c***o Dai Ma rifarne un'altra no eh Sì è stato bello grazie 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 La festa continua Adesso sale di un altro punto il nostro legame Quanto ci fai? Questo è il momento come persona 4 Che gli ultimi punti del rango salgono tutti assieme in un'unica botta Sì anche perché lì vedo ancora Uno con l'omelette Uno con il merluzzo Il salmone Il gambero Lo toro E uno dovrebbe essere anche l'anguilla Vedateli al cane allora Ci penso io capo Sì per favore E dagli quello con l'uovo E' cotto Che palle E ora scoprono che non è ancora finita Madonna La miseria Allora non sono l'unico sto Meno male che c'è qualcuno che ci ha pensato fino ad ora Sono delle campane Meno male che c'è Meno male che c'è Che gli strega abbiano preso Il preside e Aegis No sono loro due fermi lì Infatti aveva gli occhi un po' spenti Allora io ho avuto dei dubbi Su di lui Continuavo a dire che sembrava uguale a quello della strega Poi sembrava non ci fossero correlazioni E tutto il resto Però qualcosa mi puzzava Qualcosa sembrava strano su di lui Sembrava Troppo distaccato da tutto Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Questo perché Questo perché Ok Ok Questa è un'altra fine Quindi distruggerle le ha portate a essere di nuovo un unico corpo Questo è un'altra fine Alla fine Questo è un'altra fine Alla fine Questo? Questo è tutto il primo. Ma... Ma cosa stai? Questo è proprio il sogno! Anche le persone sono stato un'escalante di un'escalante. Non è stato un'escalante, ma non è stato un'escalante di Tartaros. Questo è stato un'escalante di shadow. Quindi il nostro corso è stato un'escalante. Non è stato un'escalante per perdere. No, aspetta, c'è qualcosa che mi manca. Lo scopo dell'esperimento era usare il potere delle ombre, e questo l'abbiamo capito. Masu nonno quindi era coinvolto e voleva anche lui questa caduta, voleva la morte e la ricreazione di tutto, o eppure le altre persone facenti parte di questo esperimento hanno voluto questo dopo aver scoperto cosa stava succedendo? Perchè potrebbe non essere tutto correlato. E vuoi essere tu il principe? Ecco la, ti pareva, ti pareva, ti pareva. Cosa? 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 Ma, ci sono i tuoi dimenticati. Ma, ti sono i tuoi per il futuro. Grazie a tutti. 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 L'osservatorio del liceo che Goku non ora parte del tartaro? A quanto sembra non ero cosciente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi ha sparato per primo? Entrambi. Dai, è il fianco. Ok, si sono sparati tutti e due. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' il fianco. E non lo fa. No, invece... Ha sparato le catene, ti pareva. Bravo, cagnoli. E' vero. Dove cacchio era nascosto? E' vero. 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 Come si è... Effettivamente non ci avevo fatto caso, ma Coromaru dove era mentre noi eravamo crocifissi? E l'ha fatto alla fine Posso aggiungere una cosa stupida magari al momento, ma che me la chiedo effettivamente da due giochi di persona Ma noi non possiamo usare i nostri poteri di persone per curare una ferita del genere Ma me lo chiedo anche dall'altra volta, da quando è morto Shinji I nostri danni che riceviamo dalle ombre, sono danni che possiamo curare con le nostre persone perché sono inflitti dalle ombre E quindi i danni che facciamo noi umani ed altri umani non si possono curare? O è semplicemente storia? Perché qui abbiamo almeno 4 o 5 persone che fanno abilità di cura, eh Quindi, non veniamoci a dire che non abbiamo le cure in questo momento Di cui, teniamolo in conto, Yukari è la curatrice di questo gruppo Sono tornati tutti al dormitorio senza proferire la parola Grazie per la visione